Non per ricambiare, ma anch'io vorrei fare un omaggio al Presidente del Consiglio. Questo librettino è la Costituzione della Repubblica Italiana, naturalmente so bene che ne possiede, ma non possiede questo oggetto che adesso gli dono. E vorrei richiamare la sua attenzione sulla pagina finale. La Costituzione fu firmata il 27 dicembre del 1947. E' firmata la prima firma, il Presidente dell'Assemblea Costituente porta un nome e cognome, Umberto Teraccini, fondatore del Partito Comunista Italiano, ebbe persino la possibilità di avere un diverbio da sinistra con Lieni, insomma di comunismo se ne intendeva, ha fatto 17 anni nelle carceri fasciste, dal 26 al 43, quando uscì per raggiungere i suoi compagni nell'Ossola, che liberarono dai nazifascisti e costituirono in Repubblica dell'Ossola. Quando discese fu eletto dal tutto il fronte antifascista, Presidente dell'Assemblea Costituente, comunista. Se noi siamo qui a discutere oggi, lo dobbiamo a uomini come questi, che hanno fatto la democrazia nel nostro Paese. La prego di accettarlo, per ricordarci. Grazie, grazie mille.